La casa del popolo perché? Perché gli spettacoli contenevano argomenti di attualità, di scrittamento, di denuncia. Dopo lo spettacolo si faceva dibattito e in questo dibattito usciva l'iradiglio, segretario di sezioni che venivano usati pesantemente, delle risse, veramente delle risse. Abbiamo fatto questa esperienza e poi dopo... Dici che si è mosso tutta la direzione del PC, hai dovuto andare a Roma, è una cosa grossa. Sono andata da una persona stupenda, una delle più belle della mia vita, da Enrico Berlinguer, e sono arrivato a truccata perché dal mattinino al serale, era una visita della scena, c'era un abito azzurro come un porto d'argento, un cappello di cilinio, insomma è una roba da teatro, no? E gli ho fumato tutte le sigarette che fumavano le macedonia per l'ingue, il pacchetto rosso che non so se ci siano ancora. Ero nervoso e gli ho detto guarda che ci togliamo perché qui non troviamo più casa del popolo. Lui si è molto incazzato, ha fatto una circolare e cosa è successo? Che li hanno riapperti le case del popolo ma non facevano pubblicità. Noi arrivavamo, che so, a... Non gestivano. Dove voi due o tre trovavamo i manifesti dello spettacolo in gabinetto. La gente ci diceva come noi siete qua, come avevamo uno spettacolo stasera. E niente, allora a quel punto siamo tornati dalla mamma. No, ma loro ti chiedevano una cosa giusta. Poi siamo arrivati in tutto il 70, abbiamo fatto gli spettacoli nella Palazzina Liberty. Abbiamo occupato... Fino all'80, poi a un certo punto c'è stato un periodo in cui tutto quanto era il movimento, lo slancio eccetera eccetera, era calato, ma anno per anno per anno, eravamo alla normalità più bassa e triste si può dire. Il riflusso. Il riflusso, il riflusso totale. E di colpo eravamo liberi di scegliere, mentre prima eravamo usciti completamente dai teatri tradizionali, anche perché avevamo la guerra, proprio ci facevano la guerra, era difficile, finalmente eravamo in piena libertà, non soltanto, ma avevamo la possibilità di essere il primo teatro autonimo, indipendente e che non doveva assolutamente... Non accettavamo nessun compromesso... Non accettavamo rientri statali, soldi, eravamo la compagnia... E però ecco che siamo rientrati a ragione lui, perché era cambiata completamente la situazione, il clima. Eravamo veramente in un momento di squacco, era totale, e non valeva la pena neanche di rischiare oltremisura. Scusate, visto che è passata la mia mezz'ora, perché non vi mettete qua e continuate, che però siete inquadrati e si sente bene, perché vi fa contatto con questo cuore. Ma per me è la carrozzera... Ma guarda che è quasi l'ora, scusa, adesso è l'ora di...